Ragazzi! 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 Ragazzi venite! Si è sbagliato Leonardo, veloce, venite! Leonardo! Leonardo! Mi fa freddissimo! Ma a proposito, Gaia dove è finita? Non la vedo più. Gaia? Perché ti interessa? Era con noi a fare il gioco, poi ora mi sono risvegliato e non la vedo più. Hai dovuto andare a casa, probabilmente. Si, ho avuto una chiamata urgente. Ah, ok. Comunque io sono stato troppo sott'acqua e ho una fame assurda, quindi vi prego datemi qualcosa da mangiare che sto morendo. Ehm, chi prepara da mangiare? Io no. Io nemmeno e dico anche che non si deve più giocare a questo, sennò va a finire male. Si, esatto. Questa è una buona idea. Mi ero preoccupata tantissimo perché pensavo stessi morendo. Ehm, quindi nessuno vuole preparare da mangiare, giusto? No. Io non so cucinare, quindi no. Allora ragazzi, visto che mi sono accorta che nessuno di noi ha voglia di preparare da mangiare, e se facessimo una challenge, the pool is lava, ovvero che la piscina è lava e se cadiamo perdiamo. Chi perde prepara da mangiare e chi vince va a fare tiktok. Ci state? Vai, andiamo. Andiamo. Allora, prendiamo questi gommoni. Ok. Poi? Mettiamoli là e facciamo una specie di percorso tra i gommoni. Ok. E chi riesce ad arrivare alla fine vince e chi cade nella lava, per virgolette, perde. Va bene? Bene. Vai. Ehm, chi inizia? Io no. Tommaso? Tu? Io no. Chi inizia, ragazzi? Ehm, dai, finisco io. Ok. E cosa dovrei fare? Devi cercare di cadere sopra ogni gommone e rimanere vivo senza cadere nella lava. Ok? Ok. Vai, si ferma un attimo. Ok. Oddio. Oh. Leonardo, non cadere. Leonardo! Leonardo, magari devo stare in piedi. Ok. Aspetta. Aspetta. Leonardo! Mi sai che ho perso. Ok. Dai, ma è impossibile. Adesso starebbe a Tommaso. Cerca di rimanere in vita, per favore, non come Leonardo. Bravo. E magari non stare in piedi. Ok. Aspettate. Tommaso, siamo tutti con te. È difficilissimo. Eccomi. Ora Husky, attento. Guarda, guarda, guarda. Guarda come Husky. Ok. Oh, ce l'ha fatto facendo? Oh. Ho guardato tutto. Guarda, guarda come Husky. Guarda come Husky. Sono, ci sono. Ma questo è super sgonfio. Oddio. Vai. Ci sono? Quindi ce l'ha fatta? Sì, vado a Tommaso. Grazie. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Dai, un applauso se l'america. Guarda. Grazie. Da dove esci? Eh. Ce l'ha fatta. Guarda, Charles, sto attento. Ok, ci sono. Guarda che si è carica giù. C'è carina nella lava. Ok. Devo pensare che l'acqua è lava. Aspettate. Allora. Ce la posso fare? Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Ragazzi. Sei pronta a fare da mangiare? Dai. Non voglio preparare da mangiare. Sì. Ok. Ci sono. Non devo cadere nell'acqua. Ragazzi, ho vinto. Sono qua. Ecco, infatti, vedete? Sono arrivata. Sì. Ho vinto. Non ho preparato da mangiare. Abboniamola, dai. Solo per quelle. Ok. Ilaria, vediamo se riesce a cadere oppure riesce a rimanere stabile. Oh. Dai, Ilaria. Ilaria, dai, se lo puoi fare. Aspetta. Potresti? Oh. L'acqua. Oddio. Oddio. Tenza, cerco di avvicinartelo. Oh, secondo me è cazzo. Ilaria! In cucina. Ilaria, sei pronta a preparare da mangiare? Leonardo e Ilaria preparano da mangiare. Dai, uffo. Invece io e Tommaso andiamo a fare TikTok. Vai, perfetto. Allora, ragazzi. Vediamo. Sapete cucinare, giusto? No. Non è che mi bruciate casa, giusto? Molto probabile che va a fuoco la casa, sì. Io più o meno. Più o meno? Meno che più. Meno che più, sì. Ok. Io no. Vabbè, allora io mi fido di Ilaria. No. Lascia la risponsa me le date. Contiamo su di te. Lascia la risponsa me le date. E vabbè, io e Tommaso andiamo a fare TikTok. Torniamo qua e deve essere già tutto pronto. Ok? Vai. A dopo. Allora, Ila, che si fa al riso? Mettiamo il riso? Guarda, qua ha già polle. Quindi lo buttiamo? Sì, dai. Buttiamo il riso. Quanto ne buttiamo? Aspetta, non troppo. Aspetta. Piano perché secondo me... Piano, piano, piano. Boh, un altro po', un altro po' meno. Basta. Ah, basta, basta. Basta. Ok. Ok, allora facciamo il TikTok? Sì. Vai. Ho anche preso questi due cappellini. Ah, bene. Questo è il tuo? Sì, va bene. Vai. Però se prima di fare il TikTok ci si siene un attimo e si parla un po'. Ok, però bisogna muoverci perché stanno preparando da mangiare, sai com'è. Si metta qui? Sì, vai, per ora mettiamoli là. Comunque posso dirti una cosa? Sì, certo dimmi. Oggi sei veramente bella. Grazie, però se lo scopre Ilaria mi ammazza perché lei ci tiene molto a te. Come scusa? Lui ci tiene a me? Eh, sì. Anche l'altra volta ero in camera tua e ho preso questa foto. Questa è meglio se la tengo io. Sì. Non pensavo fosse così o niente, quindi ci sono rimasto un po' male. Però... Va bene. Ehm... Senti, ma bisogna per forza dirlo? Che cosa bisogna dirgli? Sì. Poi... Vediamo. Questi. Questi. Ok. Ah, vieni ad aprire. Apro io? No, che sì. Vai, aspetti. Te intanto accendi, non so. Accendo? Come funziona? Aspetta. No. Eh, l'ho accesa, sì, l'ho accesa, l'ho accesa. Eh, ma quale? Ho acceso questa. Sei sicuro? No. Aspetta, si è spenta ora. Ok. Fai ti pulgi, vai. Aspetta. Esatto. Così. Mamma mia. Che scelta, ragazzi. Ok. Esatto. Oh mio Dio. Facciamo danni, facciamo danni sicuro. Mamma. Eh, ma tu ti fidi di Tommaso e Charlotte? Tommaso? Beh, Tommaso è un mio amico, quindi sì, il mio figlio. Provo. Io non so di Charlotte perché sono leggermente gelosa. Ti dici adesso in camera? Eh, sono andata a fare TikTok. Anche io. Ma non mi hai capito? Vabbè, comunque per quanto riguarda Leonardo non so se gli piace ancora perché hai notato che ultimamente ha indosso un anello? Sì, quell'anello argento è molto bello, è bellino, sì. Sì. Eh, stai dilatato? No. Vabbè, io vado a controllare. Vabbè, io vado a controllare. Vabbè, vado a controllare. Io resto qua per mettere visto e non bruciare. Non combinare niente. Spero di no. Perché dovrei saperlo? Io glielo dovrei chiedere perché ci potresti rimanere male. Non lo so. Ok, allora dopo glielo chiedo i passi. Stanno arrivando. Stanno arrivando veloce. Facciamo i TikTok. Ok, oh fantastici. L'effetto? Mamma mia, bellissimo, guarda. Sì, dai. Ci sta. Vabbè, vabbè. Anche se le mie mosse erano un po' sconce, ma al dettaglio, vabbè. Vabbè. Facciamo un altro? Sì, va bene. Vai. C'è tempo però, sì. Sì, sì, credo che sì. Si riprova? Allora, che stanno facendo? Niente di che TikTok. Cioè quello che ho visto solo. E basta? Però senti, proviamo a fare una cosa. E se tipo facciamo finta di essere un po' più vicini, almeno li facciamo in gelosia. Per fare in gelosia. Esatto. Ci sto. Eh? Ci sto. Che ne dici? Sì. Ma comunque per ora va tutto bene. Ok, non hai fatto danni. Non ho fatto danni, ma tutto bene. Forse qualcosa riusciamo a mangiare. Ah, gira te. Voglio andare a vedere cosa stanno facendo. Ok. Che secondo me ci mettano un po' troppo. Ok. Oh, ma io! Attento! Attento! Ma... Vedo che questi TikTok vanno bene, insomma. Sì. Sì. Leonardo non è come sembra. Aspetta. No, no, no. Cioè intanto è vero dove avessi solo TikTok. Com'è Dio! Leonardo, calmati per favore. No. Cosa sta succedendo? Ciao! Ciao! Grazie a tutti